e non ho sospeso mai la pista l'ho ammazzata l'altra sera oggi sono andato un po' al mare, mi sono un po' rilasciato poi adesso sono andato a casa si si, ma ce l'ho adesso qua e va bene, ma il tuo virus quelcio no? il virus quelcio è tutto morto ma io non sono un volino così, a mare come era purtroppo lo squelch in FM, questa radio qui non funziona nel 9.50, non so per quale motivo va in FM, in SSB, va in FM al mare era stato l'ora siamo arrivati la mattina alle 11, era bello poi dopo il mezzogiorno si è fatto brutto tirava un po' di arietta fresca lì verso le 2 abbiamo tenuto botta il sole c'è stato fino alle 6, ne hai capito? e dopo siamo venuti a casa che qua c'è un gran brutto la stupendo ascoltate, bongo bongo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti